Per accedere alla Extranet di Webbooking cliccare su Webbooking e poi su Extranet SBM. Dopo aver inserito il codice struttura, nome utente e password si accede alla dashboard, dove è possibile visualizzare i riepiloghi sulle prenotazioni e i relativi grafici. Cliccando sul menu in alto a sinistra e poi su Disponibilità si accede al Planning generale. Dopo aver selezionato il portale e la risorsa, cliccare su Crea modifica periodo se si vuole modificare più giorni con gli stessi parametri. Quindi scegliere il periodo e i vari campi da modificare. In questo esempio modificheremo il prezzo manualmente a 100 euro per una camera doppia con tariffa BNB. Selezionare il flag su Stato e scegliere aperto dal menu a tendina e salvare. I campi in giallo sono stati modificati con il prezzo di 100 euro. Per applicare la modifica cliccare su Pubblica. Selezionare il portale e la tipologia prescelta indicando un periodo che non sia superiore ai 30 giorni. Il sistema vi notificherà se il periodo che si intende pubblicare supera tale limite. La modifica può essere apportata anche a singoli giorni con un doppio clic sulla data scelta. Cambiando la fascia il prezzo verrà modificato in base a quanto configurato nelle fasce. Vediamo ora come modificare il planning camera andando sempre sul menu a tendina disponibilità. In questo esempio proviamo a modificare la durata minima soggiorno. Diamo il valore scelto sul calendario. Modifichiamo ora lo stato della camera nella stessa modalità. Tornare nel planning generale per pubblicare le modifiche. È possibile avere maggiori dettagli nella sezione Elenco disponibilità utilizzando i diversi filtri. Vediamo ora come effettuare una prenotazione direttamente dalla ExtraNet. Dal menu a tendina a sinistra cliccare su Prenotazioni e poi Crea prenotazione. Dopo aver compilato i campi e aver confermato la prenotazione questa sarà consultabile nel menu Prenotazioni. In base alla modalità di accettazione la disponibilità verrà scalata. In questo caso bisognerà confermare dal menu Web Booking sul gestionale e poi Prenotazione Web. Ricercare la prenotazione e confermarla. Assegnare una camera sul planning disponibilità. Sarà possibile inviare una mail di conferma al cliente contenente tutti i dati della prenotazione. Infine verificare i dettagli sulla ExtraNet. Nel caso in cui l'accettazione sia automatica la disponibilità verrà scalata e sarà visibile nel planning disponibilità. Nella sezione CRM è possibile visualizzare i preventivi e i loro dettagli. Nella sezione Logoperazioni portali è possibile visualizzare il Logoperazione eseguite impostando i filtri relativi al periodo, al tipo di portale, tipo operazione, tipo esito e codice prenotazione. Verificare i file LogXML di richiesta e risposta per individuare l'operazione ricercata. Dal menu Configurazione, Portali albergo è possibile apportare modifiche ad ogni singolo portale come da Configurazione portali web sul gestionale. Grazie a tutti.